Ecco allora, la natura in città. La natura entra in città e entra a pieno titolo perché entra in piazza Duomo, ma cosa intendiamo? Intendiamo di passare da una visione un po' più tradizionale di una natura un po' secondata ai ritmi di quello che si dice che è il gusto, quindi le violette che continuano a persistere anche in inverno e vengono continuamente trapiantate, a una natura che invece è la natura che troviamo al di fuori della città, ma in realtà si può anche portare dentro, una natura spontanea, perenne, che rappresenta le specie proprio del luogo, che include ovviamente anche gli alberi, sono alberi che appunto deliziano la vista di una piazza che è vero, sì, è di pietra, ma che può tranquillamente nella sua aiuola ospitare anche delle presenze verticali. Io sono molto contenta che proprio dalla piazza a cuore della città si porti questa nuova concezione del verde in città, di un verde urbano che sia appunto più allineato con la natura. È interessante vedere in questa aiuola la diversità delle varie specie che si alterneranno nella loro fioritura, perché una delle cose magiche che insegna la natura e che si è persa forse nella visione un po' urbanizzata, è che c'è un ritmo della natura, quindi il fiore arriva quando è il momento e si alterna nei colori e nelle fioriture durante tutto l'arco dell'anno e questo secondo me è un messaggio molto bello per i cittadini, che ricollega molto le persone a quella parte naturale che è dentro di noi. Dal punto di vista economico come si è articolata questa operazione? Questa è una sponsorizzazione dello sponsor Conica Minolta che ha garantito la progettazione e la manutenzione della aiuola per tre anni per un importo di 30.000 euro l'anno, quindi è una sponsorizzazione a tutti gli effetti che ha questa componente di innovazione molto molto bella che quindi è una bella sponsorizzazione. Un'esperienza di questo tipo può essere trasferita anche in altre piazze significative della città, qua di semplice piazzetta reale che non ha tanto verde, altre piazze, c'è qualche idea già in questo senso? Allora sicuramente è il tipo di coltivazione che sta prendendo piede in città, ci sono già molte aiuole che si stanno convertendo da piandumazioni stagionali a perenni e quindi girando per la città si vedono, si vedono già nelle rotonde, a Baggio, nel quartiere di Baggio è stato fatto un esperimento già ancora prima di piazza Duomo quindi oggi qui c'è una aiuola che è simbolica perché è all'interno della piazza a cuore della città ma è tutta la città nelle sue componenti policentriche, Milano ha tanti luoghi che non sono solo al centro dove questo tipo di natura sta entrando in modo molto forte. Abbiamo fatto degli esperimenti bellissimi di prati fioriti che sono per adesso nei parchi ma che nostra intenzione è portare anche nella aiuola piccola, il prato fiorito è un'essenza di fiori che continua appunto a fiorire da sola, più alto dell'erbetta normale a cui siamo abituati ma che ha questa componente di colore bellissima e di natura selvaggia è troppo ma natura viva natura che appunto ci riconnette un po' con l'aspetto che in città si perde.